Sono Liliana e sono contenta di aver partecipato a questo seminario che per me è stato un inizio di curiosità e ha continuato sempre più interessandomi e ringrazio di aver avuto questa opportunità di aver conosciuto Umberta e Gaetano Conforto il quale è stato un relatore meraviglioso. Quanti seminari hai seguito? Sì, questo è stato il primo e penso di seguirne altri, questo genere. Primo delle sette sessioni hai fatto? Sì, tutto il seminario. Tutta la scuola diciamo? Tutta la scuola diciamo, spero che ti frequenti anche il prossimo. Hai un'email per essere contattata? Sì, ho un'email però non... Tu la ricordi? Va bene. Hai qualche suggerimento? Il suggerimento è approfondire sempre di più perché è molto interessante, il tempo è ristretto, abbiamo fatto questi corsi, questi seminari di due giorni, ce ne vorrebbero molti di più. Va bene, grazie Miliana, ciao.